Non si può educare se non con una passione, se non coinvolgendo tutto noi stessi, la mente, il cuore e le mani, poi lo risentiremo di nuovo questa affermazione. Non solo aiutando la scuola, non solo aiutando il rapporto tra scuola e università, ma se stiamo costruendo una scuola e un'università realmente aperte. Un fatto trascendente, che da questo luogo si hable del pacto roto, credo che è così, credo che la scuola deve essere la priorità numero uno delle società. Credo che tutto quello che sono e quello che ho planeo essere, lo dico alla scuola. La scuola è un muro o un puente, un muro o un bridge, un muro o un ponte. Pediamo la sabidurità di buscare al altro per poter amarlo e essere uno con lui. Pediamo la sabidurità di buscare al altro per poter amarlo e essere uno con lui. Per prima cosa è un muro o un po' di un gruppo di buscare. Per prima cosa è un muro o un paese di buscare amaro. Credo che tutto quello che si ha lasciato in un'inizio allo o un piaccia. Per prima cosa è un muro o un po' di un luogo. Per prima cosa è un luogo. Melo che è un luogo. Con il luogo di buscare amaro è un luogo. Per il luogo. E' un luogo di giro il luogo. Grazie.